L'Anfiteatro Romano di Catania torna alla vita. L'Istituto per i beni archeologici e monumentali del CNR ha lanciato una sfida. Sperimentare a Catania un modello di valorizzazione e di conoscenza del patrimonio culturale che sia innovativo, dinamico, pubblico e compartecipare. L'Assessorato regionale ai beni culturali e il Museo regionale interdisciplinare di Catania hanno accettato la proposta e a brevissimo l'Anfiteatro Romano diventerà una fucina di sperimentazioni e innovazioni. Con la volontà di cambiare e dimostrare come un'area archeologica nel cuore di Catania possa diventare un centro attrattivo e propulsivo di grandi opportunità per l'intera comunità faremo sistema con la città e alla città. Restituiremo un monumento che appartiene ad essa, che appartiene a ciascuno di noi. Non stiamo parlando di un progetto futuro ma di una sfida che stiamo già affrontando, di un programma che è già definito e che attende solo di diventare realtà grazie all'esperienza dei nostri giovani ricercatori alla vostra adesione. L'Ibam ha investito notevoli risorse nello studio dell'Anfiteatro, mettendo in campo metodologie di ricerca non invasiva ed effettuando un nuovo rilievo di precisione dell'intero monumento. La sfida è adesso comunicare al grande pubblico i risultati della ricerca. Il mondo della ricerca a servizio di tutti, l'Anfiteatro di Catania diventerà il cardine di una strategia di comunicazione varia, virtuosa e condivisa che ne rinnoverà la conoscenza. Modificare l'approccio con il passato per un sistema di ricezione del monumento archeologico che sia finalmente al passo con i tempi. Oggi occorre dar spazio alle nuove tecnologie e alle infinite possibilità che queste permettono. Occorre impiegare i nuovi linguaggi e le diverse potenzialità che questi offrono per superare le tradizionali modalità di frizione, con il sostegno delle più aggiornate applicazioni della ricerca archeologica. Non più soltanto visite guidate, ma strategie di conoscenze innovative. Questo è ciò che offriremo, un programma scientifico efficace e coinvolgente, ricco di appuntamenti ed eventi per la riscoperta del nostro anfiteatro. Ma non solo archeologia. Il grande anfiteatro romano di Catania rivivrà come spazio urbano riconsegnato alla città, luogo di incontri, happenings ed eventi artistici pensati per tutti. Occorre ristabilire finalmente quel dialogo perduto tra antico e moderno, restituendo un valore attuale a un patrimonio da far vivere nel presente. L'anfiteatro di Catania non può e non deve essere più percepito come uno spazio ignoto, né come un groviglio di rovine insignificanti, ma come luogo di identità e di appartenenza accessibile a tutti. Non si può sguazzare per sempre in ciò che si può pensare. La scienza si occupa di ciò che si può fare. Questa è sì una scommessa, ma soprattutto un'occasione per cambiare, un'opportunità per sperimentare, un'impegno per innovare. Il nostro anfiteatro torna alla vita. Accettate anche voi questa sfida. Grazie a tutti! Grazie a tutti!